Oltre 20.000 aziende in Italia, di cui 4.000 solo in Toscana, sono questi i numeri dell'agriturismo, un comparto che continua a crescere nella nostra regione. Conta 55.000 posti letto e un fatturato che supere 250 milioni di euro all'anno. Per fare il punto sulle novità del settore, torna dall'11 al 13 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi Agritour, il salone nazionale dedicato al mondo della vacanza rurale che vedrà la Toscana in prima fila. Anche in un momento di crisi che c'è stato negli anni passati, gli agriturismi in Toscana hanno dato risultati molto positivi. Lo dice anche la presenza dei nostri operatori. Se si pensa che poco più di 22.000 operatori a livello nazionale, 4.400 sono in Toscana, vuol dire che quasi il 25% dell'offerta in questo settore è Toscana. Ma lo dice la bellezza del paesaggio, la capacità e voglia di accogliere. Stiamo lavorando di comune accordo con le organizzazioni professionali e con gli operatori, anche per offrire nuove opportunità. Stiamo valutando la possibilità di rivedere il regolamento che disciplina anche l'aspetto della ristorazione, tenendo conto di quelle che sono le necessità dei nostri operatori. In programma ad Agritour, attività formative per gli imprenditori agrituristici, ma anche il campionato di cucina contadina per recuperare le ricette della tradizione e uno spazio dedicato alle fattorie didattiche, collaboratori per i bambini, convegni e seminari dedicati alla ruralità, nella quindicesima edizione della fiera che è diventata il punto di riferimento italiano del settore. La Toscana ha avuto questa grandissima intuizione molti anni fa. Arezzo Fiare Congressi ha avuto l'intuizione di essere il primo promotore e di fatto al giorno d'oggi è rimasto l'unico di questo tipo di business. Ancora c'è molto da fare, margini di crescita sono enormi. Ovviamente vanno integrate con tutta un'altra serie di offerte che sono per esempio l'offerta culturale, artistica, l'offerta del cicloturismo o di altri tipi di attività che sono facilmente integrabili. Penso agli stessi percorsi religiosi, francescani e quant'altro. Nel 2015 le presenze negli agriturismi sono arrivate a 11,3 milioni in aumento del 4,9%, una crescita dovuta anche alla capacità di offrire una vacanza sempre più ricca che comprende la ristorazione ma anche attività per grandi e piccini a contatto con gli animali e la natura. Si fruisce l'agriturismo in gruppo, che sia la famiglia o che sia un gruppo di amici, si va con i bambini, quindi i bambini debbono giocare, vivere la campagna e in parallelo gli adulti condividere con i titolari dell'impresa agrituristica la quotidianità. Ecco, c'è questo bisogno di sincerità, di legame vero al territorio. Non funzionano le cose fatte apposta, ecco, che danno subito quell'idea di artificioso, di falso e in agritur veramente si può trovare la vera faccia dell'agriturismo italiano.